Dopo giorni di attesa emergono i primi elementi sulla presunta combin della gara Savonateramo che ha consegnato ai biancorossi la matematica promozione in Serie B e la Gazzetta dello Sport con due articoli firmati da Francesco Ceniti e Roberto Pelucchi a portare allo scoperto materiale che finora era rimasto segreto nelle mani prima dei magistrati di Catanzaro e quindi della procura della Federcalcio. Intercettazioni e in alcuni casi deduzioni che hanno spinto gli inquirenti della DDA di Catanzaro a definirsi certi che la partita è stata alterata. Il punto nodale resta sempre lo stesso. Qual è il grado di coinvolgimento del presidente Luciano Campitelli che se fosse coinvolto porterebbe gli organi di giustizia sportiva a riscontrare la responsabilità diretta del club con la perdita certa della cadetteria? È su questo punto che si svilupperà la battaglia tra la procura federale e il legale del Teramo, l'avvocato Edoardo Chiacchio. Un punto a favore della società è che non ci sono intercettazioni del presidente Campitelli perché il patron biancorosso non parla mai al telefono con l'ex responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Ercole Di Nicola se non subito dopo la vittoria di Savona ma utilizzando il telefono del DS Terramano Marcello Di Giuseppe. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta invece proprio le conversazioni telefoniche tra Di Giuseppe e Di Nicola nella settimana che porta al match sono frequenti. In base alla tesi degli inquirenti Di Giuseppe dà mandato a Di Nicola di combinare la gara. Secondo la procura, ma questa è una semplice deduzione, c'è l'autorizzazione del patron biancorosso. Non esistono però riscontri diretti di questo passaggio e su questo la difesa del Teramo può far leva. Nello svolgimento del mandato in un primo momento Di Nicola contatta il calciatore Davide Matteini per poter tramite lui arrivare a due calciatori del Savona, suoi ex compagni di squadra. Uno di questi declina la proposta di denaro. Sono arrivato fino a 50, dice Matteini e Di Nicola. L'altro neanche si presenta all'appuntamento. L'articolo di spalla della Gazzetta riporta la conversazione tra Matteini e Di Nicola circa il no dei due savonesi, cosa che lo stesso Di Nicola comunica a sua volta Di Giuseppe. Secondo l'accusa a questo punto viene battuta un'altra strada, quella che porta Marco Barghigiani, consulente di mercato dei Liguri. Da un'intercettazione tra Di Nicola e Barghigiani gli inquirenti apprendono di un incontro a poche ore della partita tra Di Giuseppe e lo stesso Barghigiani. Secondo la procura ci sarebbe anche Campitelli. Ma l'elemento che più potrebbe pesare sul terreno è un'altra intercettazione che arriva dieci giorni dopo il match, nella quale Di Nicola riferisce a Barghigiani di essere alla porta del presidente, che al momento è impegnato con un giornalista. L'aggancio della cella telefonica approverebbe l'incontro tra Di Nicola e Campitelli. Secondo i magistrati quello sarebbe il momento del pagamento della Combine, un elemento sul quale l'avvocato Chiacchio dovrà lavorare per respingere l'attacco di Palazzi e i suoi uomini. Se la punizione più pesante è legata alla responsabilità diretta, c'è poi anche quella oggettiva, qualora siano accertate responsabilità solo del direttore sportivo. In questo caso, nell'ipotesi migliore, il terreno avrebbe la bisalva, magari con penalizzazione, ma non si possono escludere sanzioni più severe. La battaglia legale è appena all'inizio. Ieri c'è stato un summit tra i tre avvocati, Renato Borzone, Libera D'Amelio ed Edoardo Chiacchio, per concordare ulteriormente le strategie difensive. Ora si attendono le convocazioni della Procura federale. Grazie.